Prima stava raccontando lei, ingegnere Rasile, tra l'altro ho scoperto adesso che è stato anche 14 anni ufficiale di Marina, perciò un rappresentante istituzionale, più o altro dico questo, perché la lettera si conclude con e viva le istituzioni volute dalla Costituzione, effettivamente in qualche modo rinnega il suo ruolo istituzionale in questo modo, del passato. Quindi ci siamo rivolti all'organizzazione dei sindacali per essere su un calore, le quali le istituzioni dei sindacali hanno preso in mano subito la situazione e si sono subito attivati per poter arrivare a concludere con la proprietà nel migliore dei modi a nostro vantaggio, scegliendo quindi una società ad hoc che potesse essere... Quando ha detto che è il nostro vantaggio ha avuto un'espressione un po' particolare. All'inizio doveva essere il nostro vantaggio e chiaramente all'inizio perché sicuramente loro tendevano a abbassare il prezzo che aveva indicato. E che cosa hanno fatto gli sindacali? Hanno chiamato una loro... Voi avevate piede a fiducia nelle organizzazioni sindacali oppure avevate qualche remore, qualche piccolo dubbio? Qualcuno per il dubbio si allungava sulla vicenda magari? Da parte mia non c'era nessun dubbio, ero sicuro di quello che dovevano fare i sindacali. L'ingegnere invece mi sa... Da parte mia c'era forte dubbio anche perché io non ho avuto mai molte fiducia nei riguardi delle organizzazioni sindacali. Vabbè questo comunque, la organizzazione sindacale sulla carta, per quanto riguarda il principio stesso proprio di sindacato, chiaramente il concetto proprio, concettualmente il sindacato deve difendere gli iscritti, chiaramente. In quel caso erano gli inquilini, per cui noi quelli che erano affittuari. Ma non so, i sindacati, anche i politici dovrebbero difendere i diritti degli elettori, chiaramente. Vabbè. Cioè questo... E' doppio, è doppio. Quindi che cosa hanno fatto? Hanno chiamato una loro società di fiducia, la Conit Casa, che era abbastanza adentrata nelle dismissioni, così chiamate, dismissioni degli appartamenti, pubblici, non pubblici, privati, grosse, dismissioni, quindi complessi e abbastanza enormi, e insieme a loro hanno stabilito una strategia da attuare per poter andare a parlare con la proprietà, in modo che si potesse ottenere un prezzo buono per gli inquilini. Praticamente sono andati, hanno costituito questa specie di organizzazione, che era un accordo tra i sindacati e la Conit Casa, e sono andati a parlare con la proprietà, cercando di ottenere un prezzo vantaggioso. Sono arrivati ad un accordo e quindi hanno assicurato con la proprietà un accordo per la vendita del complesso in Todos di 92 milioni di euro. Un'ipotesi d'accordo. Un'ipotesi d'accordo. Chiamata ipotesi d'accordo. Perciò diciamo, poi andrà bene in questo... Allora, a noi, quando è tornato, i nostri sindacati sono tornati, c'era anche con i nostri sindacati, c'era anche una commissione dell'associazione di 88, di cui io facevo parte all'epoca, torniamo con questa offerta di 92 milioni di euro in Todos, quindi tutto il complesso avremmo pagato 98. Voi verrete già costituiti comunque in associazione, giusto? E quanti tutti gli inquilini erano? 250. 270, 250. Perciò 30 inquilini più o meno erano venuti meno. Beh, c'erano anche qualche appartamento a sfitto, per cui... Perfetto. Quindi una decina... Quasi la totalità. Quasi la totalità erano tutti associati. Allora che è successo? Che torniamo in assemblea, nel nostro complesso e diciamo a tutti gli associati che abbiamo ottenuto 92 milioni di euro totali e che la Conit avrebbe distribuito, quindi avrebbe fatto i calcoli, eccetera, eccetera, per poter dire a noi quanto viene a costare il nostro appartamento. E proprio sui calcoli mi devo rivolgere all'ingegnere, il quale è molto, ma molto più esperto di me. Perciò, ingegnere, facciamo questi calcoli in diretto allora. La Conit casa praticamente, quindi la cosa appariva immediatamente, diciamo, di sicuro effetto, perché da 115 milioni che iniziali della vis si erano arrivati a 92 milioni, quindi si era abbassato di qualcosa di una ventina di milioni, insomma, di euro. 20 milioni di euro. Però per lei qualunque si inquadrava, insomma. Il problema è quando si è arrivata, diciamo, la cosiddetta spalmatura di questi 92 milioni su tutti gli appartamenti. La Conit praticamente individuò una serie di tipologie di appartamento per cui è costituito il, come si chiama, il compresso di Indoretto e per ognuno di questi stabilì una superficie commerciale. Il risultato dell'analisi è stabilendo un prezzo unitario a mero quadrato. Certo. Il risultato dell'analisi è che moltiplicando i prezzi unitari a mero quadrato per le singole superfici commerciali di appartamenti e sommandoli tutti quanti insieme, si trova la serratità sorpresa che invece di fare 192 milioni si sarebbero pagati in complesso 100 e passa milioni. E come mai questo? Perché allora la Conit nel determinare superficie commerciali aveva inspiegabilmente aumentate. quindi praticamente aumentando le superfici commerciali e moltiplicando per il prezzo unitario che aveva, diciamo, detto che aveva contrattato che era… 2.200 euro a mero quadrato che rispetto a quello… Sì, scusate, quei 92 milioni però da dove erano venuti fuori? Erano venuti fuori che con la VIS e con l'organizzazione sindacale ha detto datemi 92 milioni, a me non mi importa niente, vi do tutto il complesso, è finito l'è… E della trattativa fra la VIS? Dopo praticamente i 92 milioni dovevano essere ripartiti per tutti i tre inquilini. La ripartizione è stata fatta in maniera che praticamente non era aderente alla realtà. Cioè teoricamente la VIS a questo punto esce fuori… Sì, sì, la VIS non c'entra più niente, solamente che personalmente mi accorsi di questo, fece un'analisi di tutte le superfici e compagnia bella, lo portai a conoscenza di tutto il complesso e le persone si accorsero che in definitiva tutto sommato rispetto al prezzo che aveva stabilito prima la VIS la differenza non era così. Non era questa quanto andava. Avvocato Baudino, siamo nei termini dell'accordo commerciale, fino a questo punto, nel senso che la VIS può acquistare un prezzo e poi può quasi raddoppiare… Sì, questo non è evitato da nessun tipo di norma, assolutamente, anzi direi che è nella natura di questo tipo di società qua, che compiono operazioni anche tecnicamente spiegate, fino a quel momento la cosa era perfettamente legittima. Però giustamente gli inquilini dice, invece di spendere di più cerchiamo di contrattare e cerchiamo di abbassare il prezzo giustamente… Anche perché si sarebbe comprato in blombo dopo nemmeno due o tre mesi, dopo sei mesi dell'acquisto… Questo è un prezzo di mercato, insomma, con una contrattazione, come si fa sempre, come quando uno va a comprare il spigio prezzo, per farlo capire meglio gli ascoltatori, come uno va al mercato, dice che me la dai a 50 euro, io voglio 70, però poi si si accorda a 70. Il problema era la ripartizione che era sbagliata, la ripartizione è stata fatta in maniera errata, è stata fatta in maniera… Non da parte della Vista, ma della Conit. Non da parte della Vista, ma della Conit. E noi abbiamo cercato di contattare, tra l'altro ricordiamo, la Conit Casa… La Conit che sarebbe poi quella che ha creato la tindoletta attuale… Il diritto gestione immobiliare SRL, praticamente faceva capo poi la Conit Casa. E l'unica cosa è che abbiamo cercato di contattarle in tutti i modi, ma non rispondeva mai nessuno ai numeri che avevamo, insomma, ecco tutto qua. Detto questo… Devo dire questo assolutamente, perché sennò siamo 10 che non possono smentire in questo momento, perché non siamo riusciti proprio a contattarli, è tutto qua. Aspettiamo che a mette qualche comunicazione… Ricordiamo, insomma, il numero telefonico, 06 45 48 18 54, se qualcuno all'indoretto gestione immobiliari fosse all'ascolto o dalla Conit Casa SRL, può intervenire tranquillamente, siamo… Se avessimo detto noi qualcosa che non è documentata, è l'ora che non di nostra manda sia… Siamo ben lieti di mandarla in onda, di dare voce appunto al loro punto di vista, chiaramente è meglio la questione. Fino adesso tutti documenti, non chiacchiere, documenti, pezzi di carta scritti. Sono cose… A questo punto le organizzioni sindacali, cosa dicono? A questo punto che cosa successe? Ci fu l'assemblea, l'assemblea… No, per un attimo, la Conit c'è stato questo problema, è stata lei proprio a evidenziare questo problema? Io ho evidenziato con calcoli quello che succedeva, che praticamente usciva fuori che avremmo sborsato globalmente 100-105 milioni di euro… A chi sarebbe andata? A la Conit! Sarebbe andata la Conit! Perché la Conit? No, 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 ve lo spiego subito perché la Conit era come si chiama la società attuatrice. Ma non è la stessarelle che vendeva? Sì, però praticamente noi avremmo dato i soldi alla Conit, 105 milioni, la Conit avrebbe acquistato tutti gli appartamenti… Prendi che faceva un'intermediazione in poche parole? Certo, un'intermediazione… Questo è lecito ancora, avvocato? Anche l'intermediazione? Beh, allora, bisogna un attimo fare un po' di precisione perché poi in realtà la Conit avrebbe dovuto, sempre nell'accordo del 14 giugno che è documentato in atti, avrebbe dovuto sottoscrivere entro il 30 luglio con la proprietaria Vis un contratto preliminare che è appunto…